I dati a 23 sezioni scrutinate su 44 e quindi penso di poter dire che con ogni buona probabilità sarò riconfermato sindaco di Imperia. I dati sui 23 sezioni scrutinate mi danno al 63,03% con una differenza di 41 punti sul secondo. Con questo consenso l'impegno non potrà che essere ulteriormente accresciuto, compreso con fronte a quello degli ultimi cinque anni. Un dato che premia me e le mie squadre, la mia amministrazione uscente e che mi fa dire che hanno vinto coloro che guardano con sorriso il futuro di questa città. L'impegno, il giuramento preso davanti ai miei cittadini sarà mantenuto. Non perderò un momento a partire da subito per fare tutto ciò che è necessario per recuperare un arretratto di una città che da tanti anni era stata abbandonata e che ha visto segni di ripresa soltanto negli ultimi cinque anni. Dobbiamo andare a fare di più e a raccoglierne i frutti. Sindaco, cosa si sente di dire ai suoi avversari, in particolare a quello che si prefigurava come l'avversario più forte, ossia Ivan Bracco? Mi sembra più debole perché ci sono 40 punti di differenza. Mi sento di dire quello che ho detto in chiusura della campagna elettorale venerdì. Abbiamo fatto una partita, questa partita è stata vinta 6 a 0, adesso proseguiamo senza fare ulteriori polemiche e manteniamoci sempre su un terreno di rispetto delle persone, di civiltà nei rapporti, di correttezza quando si sta insieme e si starà insieme nella sede del Consiglio Comunale. Una curiosità mi ha colpito in questa campagna elettorale, che il rappresentante della sinistra estrema facesse la campagna elettorale sempre insieme al rappresentante della destra. Una curiosità. Ci sarà quasi un Consiglio Comunale quasi monocolore. Per la Giunta cosa ci dobbiamo aspettare? I dati ci diranno, credo fra non molto, quali saranno i numeri delle singole liste come consiglieri comunali e ci diranno anche quali saranno i consiglieri comunali eletti. E questo servirà, come prevede la legge, per costituire un Consiglio Comunale scelto dal popolo. Ma la Costituzione della Giunta e degli altri incarichi amministrativi non sarà, come ho sempre detto, e non sarà mai una lottizzazione. E' uno dei motivi per cui non ho voluto le sigle dei partiti e non ho voluto interferenze delle segreterie dei partiti. E la scelta della Giunta sarà un'esclusiva competenza, come prevede la norma, del Sindaco che sceglierà con tante valutazioni la disponibilità, la capacità, la professionalità, la riservatezza e il modo di operare.